Parlando di sostenibilità, la prima cosa alla quale si associa la sostenibilità è l'ecologia, il green. In realtà ISG è molto più articolato, nell'AS e nell'AG ci sono due dimensioni che soprattutto parlando di investimenti hanno e avranno un peso sempre più importante. Non sono delle lettere abbandonate dall'industria, in quanto da sempre c'è un'attenzione nella selezione delle aziende in cui investire relativamente a quelle che sono tematiche social e soprattutto di governance, però indubbiamente sono molto meno alla luce e in evidenza rispetto a quello che è il valore intrinseco che queste stesse hanno. Probabilmente la più complicata è la S, in quanto è una derivata che si ottiene andando ad analizzare non quello che molto spesso è il business diretto che fanno le aziende, ma come lo fanno, come riescono sostanzialmente a raggiungere i loro risultati, i loro obiettivi, in relazione alla gestione di quello che è il personale, quindi il capitale umano che hanno e in relazione a quanto riescono a interfacciarsi con il territorio all'interno del quale operano. Quindi è una dimensione particolarmente complicata da decodificare in degli schemi di base. È indubbio però che se l'ecologia è un tema chiave ed è un tema sulla quale il regolatore ha posto giustamente una grande attenzione anche perché il tempo in questo senso è assolutamente fondamentale. È altrettanto vero che parlando di investimento, la dimensione social e la dimensione di governance sono degli elementi importantissimi perché danno garanzia di resilienza delle aziende e conseguentemente aziende che hanno una buona governance e un'attenzione alla componente sociale sono delle aziende che sono in grado di garantire maggiore valore nel lungo periodo e maggiore capacità di affrontare anche quelli che possono essere i momenti di crisi o difficoltà delle stesse.